Andrea Berton del ristorante Berton a Milano Fiera del Tartufo d'Alba 2016 è un grande piacere per me essere qui oggi mi hanno invitato a presentare dei piatti in abbinamento al tartufo bianco e questo mi ha molto stimolato e oggi sono due le ricette che ho presentato una è una polenta con fonduta al grana padano quindi una polenta morbida una fonduta di grana padano molto elegante molto delicata dove aggiungo un burro nocciola con del mais dentro il mais viene messo crudo questo effetto del mais crudo mi crea un contrasto nella consistenza morbida che ha il grana padano e che ha la polenta l'altro piatto è l'uovo ma senza l'uovo l'albume viene ricreato facendo una crema di yogurt salata il tuorlo con una crema lo zafferano il tutto viene cotto all'interno di un guscio d'uovo e poi viene aperto tolto il guscio come fosse un uovo sodo e ha la stessa consistenza dell'uovo sodo gli altri due ingredienti che ho aggiunto sono una bagna cauda e una pasta croccante cataifi quindi creare un contrasto anche di croccantezza nel piatto e quello che posso dire io per chiudere diciamo questa meravigliosa manifestazione mangiate tanto dal gruppo bianco